Quindi caro direttore, cari dottoresse, cari colleghi, sono davvero onorato di prendere la parola a questo autorevole consesso che ci vede tutti impegnati e coinvolti in un obiettivo comune, ossia promuovere e sostenere la ricerca scientifica nella lotta contro il cancro. Ciascuno di noi è stato toccato più o meno vicino, negli affetti più cari, al mio caso mio padre, da questa terribile malattia e per questo sento in primo luogo l'obbligo morale di ringraziare l'AIT per il sostegno costante all'attività di ricerca e per aver svolto un ruolo determinante nel progresso scientifico, nella cura e prevenzione del cancro a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni. In Italia il cancro provoca centinaia di morti al giorno ed ogni anno migliaia di malati con un'incidenza di circa 1.000 nuovi casi al giorno. Le statistiche più attuali però mettono in luce che è anche un dato importante, ossia un aumento progressivo delle guarigioni, con punte che arrivano a circa 80-90% per alcune forme tumorali come il carcinoma mammario e a questa percentuale di successo è in costante incremento. La mortalità dovuta al cancro è quindi diminuita sensibilmente negli ultimi decenni grazie all'evoluzione di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, sempre più personalizzati. ma ciò non basta perché il cancro resta comunque la seconda causa di morte nel nostro paese. La ricerca scientifica pertanto si pone oggi come protagonista assoluta nell'entrata, nell'eterna scusate, battaglia tra definizione delle cause che determinano il cancro e l'individuazione delle migliori cure possibili. Ma non solo, la ricerca è strumento fondamentale per la conoscenza, utile a contrastare tutte le fake news che riguardano cure e tecniche prevenzione oncologica, contrabandate come miracolose, ma prive di ogni fondamento scientifico. È indiscusso che l'AIRC svolga un ruolo fondamentale in questo percorso, sostenendo la ricerca oncologica italiana in tutti i suoi aspetti teorici ed applicativi. La ricerca ha di fatto chiarito alcuni aspetti della malattia che aprono a nuove opportunità terapeutiche, ponendo anche il tema della sostenibilità, cioè la capacità di garantire l'accesso alle terapie innovative a tutti i pazienti. Questo deve ritenersi un principio cardine che diventa sacrosanto solo quando l'innovazione è una reale innovazione perché supportata da un rigoroso nazionale scientifico. È necessario quindi adottare strategie per sostenere e rafforzare la ricerca oncologica di qualità che utilizza le migliori tecnologie a disposizione. E per questo motivo, come fondo ASIM, come vicepresidente, abbiamo scelto di sostenere la fondazione AIRC nella battaglia che da anni porta avanti con forza e dedizione. L'idea di finanziare una borsa di studio sui tumori femminili nasce dalla consapevolezza che ogni progresso della ricerca raffigura una vittoria importante per tutte le donne, per il mondo che come fondo ASIM rappresentiamo, ma sicuramente per tutti noi. Immaginiamo quindi nel prossimo futuro l'innesco di un circolo virtuoso per il quale i pazienti oncologici avranno accesso a terapie sempre più personalizzate ed efficaci e la ricerca scientifica, sia pubblica che privata, troverà sempre più opportunità di sviluppo. L'Italia è la patria di alcuni dei migliori oncologi clinici e sperimentali del mondo che sapranno certamente valorizzare e dare attorevolezza scientifica a questi percorsi. Molte quindi saranno le azioni chiave da porre in essere nel prossimo futuro, ma avendo chiaro che tutti i cittadini devono ricevere pure ovunque essi siano e indipendentemente dal proprio profilo socio, culturale ed economico. Noi come fondo ASIM sicuramente lavoreremo in tal senso. Grazie ancora a tutti.